Ciao ragazzi, come va? Benvenuti a questo contest. Sono Power e questa è una partita della Lega Master contro i Profesi, che sono uno dei migliori team al mondo. In questa partita vinceremo 4-0 e tra l'altro farò anche un Ace nel secondo round, cioè ucciderò tutti i due e quattro giocatori della squadra avversaria nello stesso round. Diciamo che è una partita molto importante perché è un momento con uno dei migliori team al mondo nella Lega e siamo saliti tra l'altro di classifica. Comunque questo non è l'argomento principale di questo video, è il contest della Squid Grip. In poche parole dovete iscrivervi al mio canale, mettermi mi piace a questo video e commentare con qualcosa di simpatico e avrete la possibilità di vincere uno Squid Grip. Per chi non sapesse cos'è lo Squid Grip, è una pellicola che viene messa sul joystick per non far scivolare le mani. Tra l'altro è pure molto comodo, rende il joystick molto più comodo. Potete trovare molte informazioni a squidgrip.com o nel mio video dello scuf, in cui potete vedere proprio su un pad come è fatto lo Squid Grip. Tutto qui. Vorrei anche introdurre che farò altri contest sul prossimo video e il prossimo contest sarà basato su una grafica. Bisognerà fare una grafica per le mie cuffie e per il mio canale di YouTube. I vincitori vinceranno sempre degli Squid Grip, quindi ringrazio la Squid Grip per avermi dato questa possibilità di poter fare questo contest. Ciao a tutti e spero che vi piace il gameplay. Il tempo è quasi scaduto. Sì, bel lavoro. Preparatevi al prossimo round. Cerca i distruggi. Neutralizzate gli obiettivi. Carica e acquisite. Grazie a tutti. E carica e piazzate. E sì, bel lavoro. Preparatevi al prossimo round. E proteggete gli obiettivi. E proteggete gli obiettivi. E proteggete gli obiettivi. completa la missione sei l'ultimo rimasto